In questo momento penso che stiamo facendo un po' di alti e bassi, me compreso. Penso che la prestazione di ognuno vada anche a influire su quello che è il rendimento della squadra. Quindi c'è da migliorarci e da essere un po' più continui da ogni punto di vista, per poter migliorare anche la prestazione della squadra. Riferendoci alle ultime partite, io penso che il trend fosse positivo. Poi c'è stata la sconfitta con la Ternana e quest'ultima sconfitta che, a mio modo di vedere, ci è mancato solo il gol, nel senso che abbiamo creato molti presupposti rispetto ad altre partite per poter andare a segno. Purtroppo, quando non fai gol, è normale che se ti va bene la pareggi la partita. C'è anche stato l'episodio del loro gol con una deviazione. Io l'ultima partita penso che la prestazione sicuramente si può fare sempre meglio. Però abbiamo creato tanti presupposti per fare gol e non abbiamo subito così tanto. Quindi ci può stare nell'arco di una stagione una partita del genere. È chiaro che bisogna essere pronti e bisogna saper reagire anche al gol subito. Quindi cercare di fare qualcosa in più. Però secondo me siamo mancati più sotto porta che altro.